Il sostituto procuratore di Catania, Alfio Fragalà, come previsto, ha disposto ieri il sequestro della cartella clinica e della salma di Antonino Gulisano, deceduto mercoledì sera al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Un atto dovuto, dopo il clamore suscitato dalla morte del 48enne ripostese, e in seguito all'esposto presentato al commissariato di polizia di Acireale all'indomani del tragico evento dai familiari assistiti dal legale Enzo Iofrida. Una denuncia semplice ma circostanziata, dalla quale sembrerebbero emergere due dati fondamentali. I sintomi, dolore al petto e formicolia al braccio sinistro, avrebbero subito fatto pensare ad un principio di infarto. Ma altro dato importante, l'ambulanza, giunta tempestivamente a casa dell'uomo in via De Maio a riposto, sarebbe stata priva di medico a bordo e della strumentazione necessaria per compiere una diagnosi precisa. L'uomo, giunto al nosocomio accese intorno alle 14.30, sarebbe deceduto alle 17.56 senza aver ricevuto l'assistenza richiesta. I familiari erano stati addirittura costretti a tornare a casa e a prendere una coperta per il congiunto, poiché l'ospedale non ne avrebbe avuto una disposizione. Nelle prossime ore la procura conferirà un incarico ad un medico legale che avrà il compito di eseguire l'autopsia necessaria per determinare l'esatta causa della morte e soprattutto se una tempestiva assistenza avrebbe potuto salvare la vita ad Antonino Gulisano. Intanto anche l'ASP di Catania ha avviato un'indagine interna per chiarire se sia stato fatto tutto il possibile per evitare il decesso. Oltre all'esame della documentazione, sarà sentito il personale in servizio al momento del tragico evento.